Ricercato dal 2014 per reati di maltrattamenti, lesioni personali e minacce commessi a Desenzano del Garda ai danni dell'ex convivente, l'attitante è stato arrestato a Bassano dei Carabinieri. L'uomo, un 42enne residente a Mesagna, in provincia di Brindisi, deve scontare una pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione, oltre al pagamento della pena pecuniaria di 900 euro. I militari l'hanno fermato all'uscita di uno studio notarile nella città degli Alpini, dove si era recato per la stipula di un atto di compravendita di un immobile. Ora per lui si sono spalancate le porte del Sampio X.